Le indagini sull'omicidio di Michele Cancellosi hanno fatto segnare un momento importante e delicato per accusa e difesa. A chiarire alcuni aspetti ancora oscuri della vicenda ci penseranno i carabinieri del RIS di Messina che hanno tolto i sigili dalla porta d'incresso dell'ex abitazione di Cancellosi e della moglie Celeste Saieva per effettuare altri accertamenti tecnici e scientifici. La decisione è stata presa dalla procura di Sciacca che ha ravvisato la necessità di compiere i rilievi alla ricerca di ulteriori prove che si aggiungono a quelle già in possesso. Passate al setaccio dagli esperti del RIS il piccolo e modesto appartamento e due auto di proprietà degli indagati. Secondo i magistrati le vetture sarebbero state utilizzate per trasportare i Giuseppe Cancellosi ancora agonizzante in Contrata Santa Maria, luogo dove è stato sepolto e trovato cadavere a circa 3 metri di profondità. I tre indagati per l'omicidio, Nicola Piazza, Paolo Naro e Celeste Saieva, si trovano rinchiusi in carcere. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale Sacenzi ha rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori della donna. Ora sull'efferato delitto si attendono i risultati del RIS di Messina, un elemento o una traccia che possa tornare utile all'intagine e dare la svolta decisiva per risolvere il caso.